Se pensi alla sportivi ghiaccio di Zoldo, pensi alla grinta della sua società. In un'epoca in cui l'occhi su ghiaccio italiano dà sempre più spazio a atleti stranieri, puntando poco sul creare un vivaio di giovani, l'impegno della società zoldana è degno di nota. Da sempre l'attenzione al settore giovanile e la voglia di far crescere i nostri ragazzi e portarli a livelli nazionali va oltre ogni ostacolo. Nemmeno il crollo del tetto dello stadio nel lontano 2009 ha fermato la USG Zoldo, che ogni giorno con più pulmini va a recuperare i bambini di tutto il Veneto per farli allenare a cielo aperto. Innanzitutto abbiamo creduto nei giovani, nel settore giovanile, anche perché non avevamo scelta avere uno stadio così non possiamo fare nessuna categoria maggiore. Abbiamo una deroga per giocare con la serie A femminile, anche l'Under-19 abbiamo una deroga. Speriamo che questo si risolva in breve con una copertura del tetto. Devo fare sempre un applauso a tutti i miei dirigenti che ci stanno credendo anche loro e a tutti i genitori che veramente collaborano tanto per portare questi ragazzi e per mandare avanti questa baracca che ha sempre bisogno di mettere una pezza di qua e una pezza di là. E da ex giocatore di hockey Tito Meneghetti ricorda con nostalgia i tempi passati, ma grazie ai suoi giovani li rivive costantemente. Io vedo che questi ragazzi che noi alleniamo hanno un potenziale incredibile con fronte a noi tecnicamente e con il patinaggio sono molto più bravi di noi. È cambiato molto dai miei tempi il gioco, è molto più veloce, è molto più tecnico. Mi rivedo comunque, ci rivediamo comunque in certi elementi anche nella nostra squadra. C'è lo zoldo, rimane sempre quella gatta da pelare per tutti quanti.